ci siamo ragazzi eccoci di nuovo in diretta questa è la nostra prova tecnica per cui c'è in questo momento la schermata stiamo per iniziare eccola qua infatti che la vedo dovreste sentire la mia voce e vedere quindi la schermata parzialmente rossa vediamo che cosa si dice in chat Todiana dà la buonasera buon anno a tutti Alex dice sera Daniele buon lavoro grazie Alex Marco felice anno a te e ai Maggiolini Michele dà l'ok gravi date gli ok ragazzi così mi rendo conto che tutto funziona Giuseppe buona serata a tutti Milan ok Vanni ok Sergio Vittorino Ivano danno l'ok vediamo se ne arriva qualcun altro e poi ci accingiamo a partire quindi diamoci qualche istante ancora vediamo Marco Veronica in quanti siamo? Maurizio Emilio ok quindi mi state sentendo Cristina ci sono ci sono Daniele sei un mito grazie 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 edo ok Mamadu ok Michele Roberto Sabrina Francesco Mario Angela ok dai allora direi che ci siamo siamo già in un bel po' quindi schiaccio i bottoni giusti per andare in diretta vediamo a che punto siamo faccio così ciao eccoci tornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina alla nostra diretta settimanale finalmente nel nostro spazio naturale il mercoledì alle 18.30 vedo una super chat grazie infinite Alfredo grazie 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 per l'uso della super chat ne approfitto per ringraziare tutti gli amici che ci sostengono in qualche modo gli abbonati a entrambi i livelli le super chat super sticker i super grazie che possono essere mandati sotto qualsiasi video e chi invece utilizza altri sistemi per sostenerci grazie infinite ragazzi ci permettono letteralmente di essere qui quindi grazie 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 bene ragazzi abbiamo superato il Natale e siamo tornati nella nostra diretta solita e c'è ancora Capodanno per cui abbiamo ancora da fare ma andiamo a vedere di che cosa parliamo oggi quindi vado a prendere il browser internet eccolo qua Chrome si è aperto nell'altra schermata per cui lo porto di qua andiamo sul sito Amici di Maggiolina ricordo a tutti gli amici sostenitori che questo spazio è per voi per cui se ci avete sostenuto ma non siete mai entrati nel sito Amici di Maggiolina datevi da fare per arrivare per farlo basta essere sul nostro sito associazionemaggiolina.it quindi la pagina istituzionale il sito istituzionale dentro Amici ci sono tutte quante le istruzioni che servono per arrivare al sito Amici di Maggiolina la fatica si fa una volta sola e poi siete dei nostri ricordo gli amici As Maggiolina Fan che hanno in più nell'abbonamento anche il video in anteprima segnalatemi via email che siete entrati in As Maggiolina Fan perché non vediamo tutti quanti i nomi e soprattutto ci serve l'email per attivarvi il servizio aggiuntivo ok sempre sul sito associazionemaggiolina.it alla pagina Alfabetizzazione Digitale per tutti questo per tutti e tutti al di là degli amici e non amici qua c'è il nostro corso di Alfabetizzazione Digitale è diviso in pagine perché cominciano a diventare tanti video eccoli qua sempre disponibili e quindi fate un salto a vederlo se magari non avete tanta pratica con YouTube qui trovate tutto quanto in ordine alla pagina seguente ci sono ulteriori video e siamo arrivati oggi con la diretta di questa settimana al video numero 43 dove parliamo sempre di file e cartelle ci gireremo attorno un po' a questo argomento perché è fondamentale l'uso degli strumenti digitali si basa sull'uso di file e cartelle quindi sapere usare queste cose significa sapere usare questi strumenti digitali e quindi eccoci di nuovo qua file e cartelle abbiamo visto di cosa si tratta nei video precedenti i file sono informazioni che creiamo, modifichiamo, riceviamo eccetera e le immagazziniamo all'interno dei nostri strumenti e questi file li immaginiamo come dei fogli sui quali ci sono scritte delle istruzioni perché file è una parola che non ha una traduzione corretta in italiano e quindi ok fogli con scritto su delle cose e li immagazziniamo all'interno di cartelle perché ogni file sta al suo posto così che sia per noi più facile trovarlo ma anche avere un computer tutto quanto organizzato ci permette di farlo funzionare meglio e di riuscire a gestirlo al meglio ok, allora devo guardare di essere a posto con tutto e ci siamo oggi vediamo file e cartelle all'interno del nostro smartphone fatemi vedere qui che la linea comincia subito a fare qualche capriccio vediamo se è tutto quanto a posto diamoci qualche istante la chat non dice niente di particolare io sono bloccato sul mio rimando dunque controllo per vedere se sta uscendo tutto alla velocità giusta sì, tutto quanto sta andando alla velocità giusta e quindi direi che ci siamo anche se aspetta, provo a schiacciare qui magari manca qualcosa qualcuno mi dice in chat come va ragazzi così ci gestiamo allora vediamo di gestire un po' di cose intanto relative alla chat non ci riesco in questo momento ecco qua adesso ce la posso fare ok vediamo un po' che cosa mi dite adesso bene io vedo e sento tutto bene ok, tutto ok per ora tutto ok benissimo ok, vabbè quindi allora è un problema di ritorno solo da me meglio così e quindi tutto ok c'è stata una micro interruzione iniziale grazie Sergio Francesca per me è ok ok, va bene allora lo sfocato ragazzi sapete che si lavora solo in granaggio sotto al video ormai l'abbiamo detto un sacco di volte ma è da lì cambiate il numero scegliete un numero più basso invece che automatico 4,80 di solito va bene ok dai tutti quanti si dicono che siamo a posto e quindi allora vado avanti io dalla mia parte qua devo provare a aggiornare la schermata perché comunque ho bisogno di vedere che funzioni per essere a posto quindi adesso la schermata l'ho aggiornata vediamo il caricamento dello streaming e in questo momento sembra funzionare ok dai allora chiudiamo un po' di cose per agevolare il computer brava Francesca forza con questi mi piace va bene dai allora noi adesso lavoriamo facciamo e vediamo che cosa succede vi ricordo che la diretta poi è registrata e quindi sarà possibile guardarla anche in un secondo momento allora smartphone e tablet perché vale per tutti quanti questo discorso hanno anche loro file e cartelle ci viene un po' tolta la possibilità di gestirli nel senso che non ci rendiamo conto più di tanto di questi file e cartelle all'interno del nostro smartphone perché i programmatori vengono incontro alle persone che non sanno tanto gestirsi e quindi che non conoscono l'uso di file e cartelle cercano di facilitare le cose è un bene perché ci facilita ma è un male perché la facilitazione ci permette di fare meno tutto automatico tutto più semplice però fai meno cose che se non sei tanto esperto vabbè ti sta bene perché tanto non ti vengono neanche in mente le cose in più ma chi invece lo sa usare e si trova che ci sono meno possibilità allora andiamo a vedere dove sono file e cartelle nel nostro smartphone per cui io adesso devo andare a cercare lo smartphone e mostrarvelo qui sullo schermo per cui ho un telefono quasi vuoto da poter mostrare vediamo se arriva devo dargli l'ok probabilmente quindi non ho pensato di farlo prima ma adesso arriviamo dunque allora lo rilancio così adesso dovrebbe saltare fuori eccolo qua allora perfetto aspettate che vado allora lo rimpicciolisco un attimo vado a spegnergli il wifi per evitare di ricevere messaggi cose varie durante la diretta mi sembra che sia già spento ok è spento dovremmo essere a posto ok eccoci qua allora noi siamo qui con il nostro computer e qui con il nostro smartphone lo smartphone in questo caso lavora da solo questa cosa qui che noi vediamo adesso la vediamo qua sullo schermo del computer perché così riesco a mostrarvelo ma lo smartphone gestisce file e cartelle da solo senza bisogno di niente quindi anche lui ha all'interno le cartelle ha all'interno i file e adesso andiamo a gestirle aspettate che vado a cambiare le impostazioni per dirgli di evitare di spegnersi allora opzioni sviluppatore opzioni sviluppatore e devo dirgli rimani attivo ok così adesso lo schermo rimane sempre attivo e siamo a posto intanto controllo tutto che sia a posto sempre perché mi è rimasto un po' il dubbio ma direi che ci siamo allora nel nostro telefono ci sono i file tutto quello che facciamo col nostro telefono è un file che va a finire da qualche parte quando creiamo qualcosa non ci capita di creare tanto ma adesso lo faremo e questi file sono raccolti anche qui in cartelle perché ogni cosa deve stare al suo posto così è più facile da utilizzare dove sono li possiamo vedere allora possono essere in due posti intanto sono nello spazio di archiviazione del nostro telefono sappiamo che il nostro telefono come il computer ha una memoria RAM che gli serve per funzionare e uno spazio di archiviazione una capienza anche quella è una memoria ma la distinguiamo la chiamiamo spazio di archiviazione perché lì ci metto le cose le foto i messaggi che ricevo tutto quanto e sappiamo che un telefono con poca memoria RAM è un telefono lento e un telefono con poco spazio di archiviazione è un telefono sempre pieno che poi non mi permette di caricare le app che non mi permette di fare le cose alcuni telefoni possono prendere a bordo nel senso posso inserire in alcuni telefoni anche una scheda micro SD o mini SD che è questa visto che ce l'ho ve la faccio vedere così tutti quanti la vedono questo telefono che ho io ne ha possibilità è questa allora questa è una scheda SD fatemi visualizzare me stesso così mi rendo conto se la sto mostrando correttamente questa è una scheda SD Secure Digital è la marca comunque chiamata SD e questa che estraggo con le unghie è una micro SD questa è una schedina da cellulare macchina fotografica e quant'altro questo è un adattatore che serve a dargli una forma più grande e quindi ad esempio nella mia macchina fotografica il formato richiesto è questo e quindi ho la schedina piccolina la metto nell'adattatore e la macchina fotografica la può usare questa schedina può andare anche nel mio computer il mio computer ha il lettore di schede cioè ha una fessurina per questa la infilo e ci siamo e quindi leggo vedo quello che c'è dentro allo stesso momento aspettate che mi sono ho dimenticato di disegnare la riga in chat la faccio adesso e dopo leggerò qualche messaggio anche indietro ma ok dicevo allo stesso modo questa schedina può essere messa all'interno dello smartphone non ha tanto significato nel senso che il telefono fa praticamente tutto sulla memoria interna si possono fare le cose anche sulla scheda SD perché il telefono lo permette magari in un prossimo video vedremo come fare però è poco usata ecco diciamo così perché ormai i telefoni per fortuna hanno abbastanza memoria quindi le cose sono o dentro al telefono non c'è il disco è una memoria è un circuito integrato immaginatevelo come quei circuiti elettronici dove vengono immagazzinate le cose questa volta le cose nere e quindi non c'è un disco a tutti gli effetti ma c'è una memoria interna nel computer nello smartphone che non si può togliere eccetera quindi lì vanno a finire le cose come le guardo io queste cose per andare a vedere cosa c'è dentro devo avere una app che mi permetta di vedere cosa c'è dentro nel nostro computer abbiamo esplora file questo apro esplora file vedo i dischi e poi ci clicco dentro e ci clicco sopra e vado a vedere che cosa c'è nel telefonino non c'è questa cosa di esplora file ma ci sono delle altre app allora attenzione che non ce n'è una unica che va bene per tutti o meglio che c'è sempre su tutti quindi alcuni telefoni hanno magari qualcosa che si chiama archivio oppure files cose così altri telefoni non hanno niente quindi non potresti guardare i file e le cartelle del tuo telefono perché non hai lo strumento e in altri c'è una app che è diventata comune ormai visto che tutti i telefoni hanno fatto un po' come ne avevano voglia le case costruttrici di questi telefoni hanno fatto un po' come ne avevano voglia a un certo punto Google ha messo all'interno dei nostri telefoni un'applicazione che si chiama files che è file al plurale in pratica e quindi io in questi telefoni che sto provando ultimamente che sono nuovi c'è già ma se tu nel tuo telefono non ce l'hai puoi metterla quindi si va nel Play Store si cerca Google files files e lei salta fuori la installi e la puoi usare puoi comunque usare anche quella eventuale del tuo telefono archivio o quello che è si può usare perché funziona è chiaro che se è diversa potrebbe fare le cose in maniera diversa alcune cose le può fare alcune cose non le può fare dipende dall'applicazione però in definitiva dovrebbe permetterti di gestire file e cartelle del tuo smartphone io adesso faccio scorrere e vado a cercare questa files saranno in ordine alfabetico quindi eccolo qua files file al plurale ecco qui vediamo benissimo che in questo telefono c'è anche un gestore file quindi questo telefono aveva già anche un'applicazione di gestione file e quindi adesso sono due per cui ne posso usare due o una o l'altra a seconda di quella che mi piace o una volta una una volta l'altra o insieme non lo so si possono usare contemporaneamente però file e cartelle sono sempre quelli quindi se prendo e cancello qualcosa con questa app l'altra non la trova perché è stata cancellata quindi lo spazio i file e le cartelle sono uno e quindi voi che utilizzate una o che utilizzate l'altra è sempre la stessa cosa attenzione allora prima di metterci a guardare file e cartelle ci diciamo che non si cancella quello che non si conosce non so cos'è quella cartella ma da cosa mi serve la butterò via così libero un po' di spazio no perché altrimenti il tuo telefono smette di funzionare come si deve allora nel computer fai disastri che neanche più si accende dopo quindi se cominci a dire aspetta che vado a vedere cancello posto pulisco no perché il computer non funziona più lo smartphone invece è più furbo non puoi danneggiarlo al punto tale da non accenderlo più però ovviamente alcune app magari non funzionano e quindi allegramente puoi fare dei danni lo stesso e quindi noi andiamo a vedere perché vogliamo sapere come è fatto che cosa sono eccetera eccetera ma con attenzione apro files così è quella che possiamo vedere tutto e adesso si apre così mi fa vedere le cose recenti immagini e mi fa vedere che c'è una cartella download questo è download quindi cose che io ho scaricato da internet sono finite in una cartella apposita che si chiama download c'è una cartella immagini c'è una cartella video c'è una cartella audio documenti app 19 giga di roba quindi qui ci sono caricate un sacco di cose se faccio scorrere vedo dell'altro allora io qui posso vedere i dispositivi di archiviazione nel mio computer nel mio scusate smartphone c'è solo la memoria interna la schedina non ce l'ho messa dentro perché questo telefono ha tanta memoria interna tanto spazio di archiviazione e che non ha senso metterci anche la schedina all'interno quindi io posso aprire la memoria interna per vedere quello che c'è dentro premo qui e questa è tutto quello che c'è dentro allora qui vabbè mi dà degli avvisi mi aiuta a utilizzare certe cose torno a memoria interna perché avevo schiacciato allarmi allora queste sono le cartelle nel mio caso nere adesso e bianche io qui ho la visualizzazione notturna come impostazione quindi è scuro e questi sono tutte tutte cartelle in cui è diviso il mio smartphone e ripeto non conosco il significato di tutte queste cartelle per motivo per cui non faccio niente nel senso che non faccio pasticci non vado a toccare niente vabbè documenti sarà documenti download sono le cose scaricate quindi fin qua ci arrivo e basta non suggerirei neanche di andare a curiosare più di tanto perché non è furbo una cartella però che possiamo imparare a usare tutti e vedere bene che cosa fa è questa DCIM tutti i dispositivi smartphone o tablet ce l'hanno e questa cartella è una sigla questo DCIM è una sigla sta per digital camera image queste sono le foto in definitiva qualsiasi foto è stata scattata con il telefono o messa in qualche maniera generata dal telefono di solito finisce in DCIM se io apro questa cartella potrebbero esserci ulteriori cartelle Snapseed è un'app che mi permette di modificare le foto se io ho questa app sul mio telefono e se ho modificato delle foto c'è una cartella Snapseed Shorts è una cartella che mi permette di gestire gli short i video brevi che metto su YouTube Photo Editor è una cartella di un'applicazione che mi permette di editare le foto CapCat è un'applicazione che mi permette di modificare i video e quindi c'è la cartella e Camera è la cartella delle foto scattate con la macchina fotografica del cellulare e quindi quando io scatto una foto va a finire dentro lì non tutti abbiamo queste cartelle queste cartelle si creano da sole se noi mettiamo Snapseed se noi usiamo la modificare le foto se noi mettiamo CapCat eccetera eccetera perché tutte quante hanno questo 35 minuti fa 34 minuti fa 34 minuti fa sono venuto e le ho vuotate perché volevo fare pulizia non volevo mostrare niente di personale quindi se io vado in camera non c'è dentro niente non c'è dentro niente perché semplicemente ho buttato via tutto quello che c'era l'ho trasferito altrove prima e poi ho pulito il telefono allora adesso io prendo il telefono e scatto una foto dentro DCM camera fotocamera e questo è il significato apparirà una un file perché lo creerò facendo una foto quindi apro la macchina fotografica eccola qua sto inquadrando lo schermo dai vado a inquadrare il microfono ops è caduta una penna inquadro il microfono faccio la foto perfetto foto fatta e adesso da qualche parte prima piso sulla penna ci sarà un file perché ho scattato una foto e quella è diventato un file e dove è finito questo file dentro DCM digital camera image e poi nella cartella camera perché è stata scattata con la fotocamera ok voglio andare a vedere devo fare di nuovo il giro faccio scorrere vado a cercare files files eccolo qua ed eccolo qua siamo dentro memoria interna DCM camera perché siamo già qui perché l'applicazione era aperta la chiudo allora vado fuori premo questo pulsante cancello tutto così ho chiuso tutte le app e adesso rifaccio di nuovo il giro faccio scorrere cerco files eccola qua files la apro sono finito nello spazio principale c'è anche una cartella di sicurezza dove vado a nascondere le cose volendo allora lasciamo la stare intanto vado in memoria interna quindi lo spazio interno del mio smartphone lo apro vado in DCM vado è stata modificata un minuto fa la cartella camera quindi è stato aggiornato e non siamo stati noi è stata la foto che come conseguenza ha generato un file all'interno della cartella camera e quindi il contenuto della cartella camera un minuto fa è stato modificato premo ed eccola qua questa è la mia foto questo è il file nome del file e questa è l'immagine se io la premo la posso aprire 19,85 MB scattata un minuto fa allora spendiamo un attimo di tempo per capire il nome del file noi quando mettiamo un file nel nostro computer o adesso anche nel nostro smartphone sappiamo che gli dobbiamo dare un nome a questo file perché il telefono o il computer deve permetterci di riconoscerlo e quindi noi possiamo individuarlo questo nome deve essere unico nel senso che nella cartella camera ci può essere un solo file con un determinato nome questo file generato automaticamente in seguito a una foto ha questo nome qui IMG che sta per immagine e poi 2023 che sarà l'anno 12 è il mese e 27 è la data oggi è il 27 dicembre quindi questo file prende questo nome il 185 potrebbero essere le 18 e 51 e 36 secondi e 0,76 una cosa del genere possiamo vedere questa cosa adesso sono le 18 e 54 e sono curioso di fare un'altra foto vediamo se salta fuori 154 qui 155 adesso proviamo dai quindi vado a fare una foto stavolta fotografo la tastiera eccola qua questa invece è la bustina della mia macchina fotografica ma fotografo la tastiera fatto torno fuori torniamo in files dunque andiamo a cercarlo file file files eccolo qua e 154 53 ok chissà se è veramente ora e secondi eccetera eccetera dovrebbe perché in questo modo i file hanno un nome univoco visto che non possono esserci due file con lo stesso nome e nello stesso posto i file il nostro smartphone genera questo genere di nomi per i file in modo che siano sempre diversi per cui ecco perché le nostre foto hanno questi nomi strani e sono di fatto dei sono di fatto dei data ora e quant'altro ok se ci clicco sopra ovviamente se lo tocco io adesso posso farlo col mouse vedo la foto eccola qua torni indietro perché questo è il file questo file può essere cancellato può essere modificato può essere spostato posso cambiargli nome e quant'altro perché è un file solitamente noi non facciamo niente di queste cose nello smartphone perché semplicemente agiamo sulla galleria galleria google foto e quant'altro e tantissime e tantissime volte c'è quella persona che dice ma io non riesco a fare questo ma perché non posso fare una cartella ma se la cancello di qui perché non si cancella di là mi rimane sulla scheda eccetera 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 perché agiamo al di fuori di file e cartelle se noi sapessimo usare file e cartelle quello che facciamo è fatto se invece usiamo l'applicazione foto o l'applicazione galleria o qualche altra app che abbiamo scaricato per gestire le nostre foto gestiamo le foto ma non abbiamo un pieno controllo di file e cartelle perché ci è stato tolto cioè se io uso l'applicazione galleria o foto di google mi facilita nella cancellazione eccetera eccetera però io non so niente non so dove sono non so se va nel cestino non so come tirarla fuori dal cestino non so se è sulla scheda SD se viene cancellato se invece rimane sulla scheda SD e tutte queste cose qua perché ci hanno facilitato ci hanno facilitato e abbiamo dei danni collaterali tra virgolette perché non abbiamo il controllo se invece lavoriamo sulla cartella camera questi sono i file se io lo cancello se io cancello questo file col microfono sparisce per tutte le applicazioni eccetera quindi non c'è questi dubbi eccetera eccetera posso creare delle sottocartelle perché magari mi va ad esempio in certe circostanze io creo una sottocartella perché mi serve per la gestione delle foto una gestione mia delle foto sotto cartelle e quant'altro che non si vedono in google foto non si vedono in galleria per cui anche se io faccio tutto un lavoro su file e cartelle google foto galleria e altre app di gestione foto non sono in grado di leggere le cartelle non sempre perché è stato tolto l'uso e l'attività di file e cartelle per queste applicazioni per venire incontro agli utenti però se tu lavori da qui riesci sempre a fare tutto non vuol dire che allora ah beh allora devo fare tutto qui no google foto lo usiamo la galleria la usiamo facciamo tutto quello che vogliamo però sappi che se vuoi avere chiara la situazione ma se succede questo faccio così sparisce anche da là eccetera e tu vieni fai le cartelle guardi e gestisci e fai e lì sei sicuro di quello che è successo in definitiva bene possiamo gestire fai le cartelle del nostro telefono anche dal computer quindi adesso vediamo come si fa il mio telefonino è collegato via cavo al mio computer eccolo qua quindi lo stiamo vedendo perché è collegato via cavo dato che è collegato via cavo io posso anche vedere il mio smartphone come un disco aggiuntivo del mio computer quindi adesso il mio computer può mostrarmi il contenuto di fai le cartelle io potrei lavorarci direttamente dal computer senza passare dal telefono e agire ovviamente nel telefono però c'è da fare un discorso quando io collego il telefono con questo cavo lui vuole sapere che cosa voglio farci visto che il telefono è collegato a un computer mi dice vabbè il computer può fare tre cose con questo telefono e mi dà delle scelte vediamo se riusciamo a vederle e sono queste debug usb collegato trasferimento allora provo lì e tocco vediamo che cosa mi propone questo devo schiacciare qui tocca per altre opzioni ok allora adesso il mio telefono quando l'ho collegato è saltato fuori era saltata fuori nelle impostazioni nelle notifiche una scelta di che cosa io avrei voluto fare con questo telefono e queste sono le scelte che io ho per questo telefono trasferimento di file io ho scelto che il mio telefono diventi un disco una memoria visibile in chiaro dal mio computer quindi posso semplicemente agire con il computer dentro al telefono queste sono altre opzioni che potrei voler avere però per il trasferimento file per la gestione file e cartelle trasferimento file è la voce giusta e quindi metto il pallino lì posso scegliere uno o l'altro pallino tondo opzione o scelgo una cosa o ne scelgo un'altra quindi io posso anche rimpicciolire il mio telefono andare in esplora file con il mio computer e vedere che c'è all'interno di esplora file anche il mio telefono questo è l'S mini e il computer lo vede come S mini quindi è come se fosse un disco dentro questo pc tra tutti i vari dischi c'è questo telefono se io vado a cliccarci sopra vedo la memoria condivisa interna che è la memoria del telefono 227 gigabyte sappiamo che è da 256 è quasi vuota questo telefono è quasi vuoto ci clicco sopra due volte ed ecco qua le cartelle queste sono le cartelle mostrate alla maniera di windows questo è gestione file di windows quindi vedo le cartelle come siamo abituati a vederle con il computer e questo DCM è la cartella digital camera image se ci premo sopra due volte vedo le ulteriori sottocartelle se vado dentro camera vedo le foto queste sono le foto sono i file delle due foto che abbiamo scattato qui se ci clicco sopra due volte chissà se me la fa vedere sì me la fa vedere perfetto quindi questa è la foto se vado verso destra vedo anche l'altra foto della cartella e vabbè questa è un po' sfocata e sono le due foto che ho fatto se la prendo e la trascino qui questa foto viene copiata anche nel computer eccola qua se la cancello quindi la butto nel cestino la trascino nel cestino vediamo se me lo fa la trascino nel cestino mi chiede vuoi cancellarla sì vediamo se lo fa in teoria cancello la foto dallo smartphone se lo smartphone non si impunta in qualche maniera ecco ok e sul telefono quella foto non c'è più perché io l'ho cancellata vuol dire che se vado in google foto in galleria eccetera eccetera non c'è più e quindi quella foto non c'è più attenzione perché google foto c'è il discorso nuvola quindi sono dentro al telefono i file o sono sulla nuvola dipende in questo caso i file sono nel telefono perché li vediamo qua in dcm camera ma se fossero sulla nuvola allora ovviamente continuerebbe a esistere perché se la foto è sulla nuvola il file è là e quindi finché è sulla nuvola si vede dalla nuvola ma non volevo adesso gestire andare troppo in dettaglio con foto nuvola e quant'altro però era per farti vedere che file e cartelle sono presenti nei nostri dispositivi e se li sai usare tu hai sempre il pieno controllo di queste cose quindi in questo caso ho un file sul mio computer sul telefono è rimasto l'altro se lo voglio tirare giù anche l'altro lo prendo lo trascino ti faccio notare che il computer quando prende un file da un dispositivo esterno perché adesso il mio telefono è un dispositivo esterno e lo porto all'interno non lo tira via da là per precauzione per evitare che nel passaggio da un dispositivo all'altro succeda qualcosa e io rimanga senza di qua e senza di qua e quindi perda definitivamente il file se il trasferimento è a rischio perché è in spostamento tra un dispositivo esterno all'interno o viceversa lo copia quindi quello originale resta là e qui io ne ho una copia così che se nel trasferimento succede qualcosa vabbè quello lì comunque rimane non resto a piedi se voglio toglierlo poi lo devo cancellare in un secondo momento e quindi adesso vado a cancellarlo e dico di sì ovviamente nello smartphone c'era la possibilità di gestire file e cartelle e quindi di cancellarlo a fare le varie cose riprendo lo smartphone e torno a vedere l'applicazione files files dove è questa vado in memoria interna dcm camera che adesso è vuota perché non ci sono più quei file lì li ho tirati via ti voglio mostrare un'altra cosa allora se io vado qui nel nel menu di scelta vediamo questo devo schiacciare su questo due file quando collego il mio telefono al computer lui mi fa scegliere tra queste cose trasferimento di file tethering usb midi p2p e nessun trasferimento di dati allora alcune di queste voci non ci sono su tutti i telefoni e questo ne ha di più ok allora trasferimento file significa che ti fa vedere file e cartelle di tutto il tuo telefono e puoi fare tutto quello che vuoi compresi i danni perché se i lavori su cartelle che non conosci sono danni nessun trasferimento di dati significa che il telefono si carica e basta è collegato a un computer che comunque ha una presa usb e ha un po' di alimentazione il telefono si carica se invece uso il p2p questo lo premo quindi cambio il telefono adesso ti mostra solo i file e le cartelle su cui tu puoi lavorare senza fare danni andiamo a vedere quindi esplora file vado sempre in questo pc a prendere S mini memoria condivisa interna questa volta quando la apro la memoria condivisa interna mi fa vedere solo queste cartelle qui ci sono ancora tutte le altre ma il telefono non me le fa vedere e dice calma ragazzo ti faccio vedere solo quelle su cui ha senso che tu metta mano le altre non le vedi e quindi trovo questo pictures che comunque vediamo ci sono le cose di whatsapp ci sono delle foto di whatsapp eccetera ok torno indietro non andiamo ad aprire per una questione di privacy anche se whatsapp io l'ho tolto ecco allora io whatsapp l'ho tolto su questo telefono posso cancellare la cartella potrei a questo punto potrei per cui la cancello vediamo la butto là sì e in teoria sono a posto ok e quindi qui ci sono solo quei file e cartelle che io posso andare a modificare a gestire senza temere di fare danni e basta quindi il P2P il collegamento P2P ti permette di vedere il tuo telefono sul computer di interagire con file e cartelle del tuo telefono sul computer senza fare grossi danni perché non vedi altre cose che potrebbero essere dannose e basta direi che ci siamo detti un po' di cose vado a disegnare la nuova riga in chat e vedere che cosa mi avete chiesto e quindi vado a prendere il nostro il nostro messaggio la nostra chat allora leggo da Veronica dice cosa serve l'opzione sviluppatore ce ne parli per favore bisogna attivarla o no aiuta a velocizzare lo smartphone il tablet se attivo allora domanda interessante ne abbiamo già parlato in altri video quindi se io adesso vado a prendere il nostro sito amici di Maggiolina e vado nello spazio dove ci sono tutti i video e dove c'è il motore di ricerca vediamo se scrivo sviluppatore se salta fuori qualcosa sviluppatore questo è un modo per trovare i video all'interno del canale quindi per facilitarci le cose come visualizzare lo schermo dello smartphone sul computer oppure altre cose sì l'opzione sviluppatore si utilizza per vari motivi per vari motivi sviluppatore è il programmatore del il programmatore in generale lo sviluppatore o programmatore in questo caso dello smartphone per vedere quello che fai quando lo programmi ti può essere utile dire telefono dammi delle capacità aggiuntive che mi facilitano nel mio lavoro da programmatore tra queste capacità aggiuntive c'è lo spegnimento dello schermo che non avviene mai quindi come abbiamo visto io finalmente dov'è qui il mio telefono adesso non ce l'ho devo andare a richiamarlo da qua come abbiamo visto io non ho più bisogno di tenere sveglio il mio telefono perché essendo collegato alla presa usb quell'opzione speciale che ho sbloccato tramite le opzioni sviluppatore mi permette di come dire gestire il mio telefono e quindi tenerlo sempre acceso e ci sono un sacco di funzionalità speciali per lo sviluppatore tra cui una interessante è questa magari la vedremo appositamente in un video ma ve la faccio vedere lo stesso intanto qua allora opzioni sviluppatore se tu cerchi nel tuo telefono opzioni sviluppatore senza averle attivate con la funzione apposita non le trovi però si possono attivare e saltano fuori allora ad esempio il rimani attivo l'abbiamo visto una una cosa interessante è quella che mi permette di installare le app sulla schedina SD quando noi abbiamo parlato prima di questa memoria qui vi dicevo ma non serve più di tanto perché il telefono alla fine ci mette solo le foto nient'altro in realtà con le opzioni sviluppatore io posso andare a dire di usare questa memorietta qui per le applicazioni quindi risparmiare spazio di archiviazione nel mio telefono se ne ha poco da qualche parte ci sarà e si tratta di trovarla vediamo un po' chiaramente io non ho la scheda dentro quindi adesso non funzionerebbe vediamo se la trovo verifica qui ci sono un sacco di cose che andare a cambiare senza sapere di cosa si tratta significa fare dei guai quindi attenzione però è una cosa abbastanza tranquilla questa cosa qui dello sviluppatore nel senso che si può attivare e disattivare senza problemi allora non si può velocizzare il telefono comunque bisogna che sia già veloce non è che si può fare niente vediamo un po' se la trovo perché ce ne sono vedete tantissime di opzioni potrei anche cercarle ma rimaniamo così dovrebbe essere giù in fondo ad esempio il mostratocchi quando io vedete che ho messo il dito sul telefono e quando faccio vedere i video voi vedete che io dove lo tocco questo telefono perché ho acceso l'opzione mostratocchi e quindi si può fare allora vediamo un po' scala 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 larghezza ritaglia aggiornamento dentro c'è anche l'altra opzione vediamo un po' e tutto è reversibile ovviamente le opzioni sviluppatore si possono spegnere e tu sei a posto vediamo un po' non se la troviamo forse modalità desktop attiva app non ridimensionabile rimposta al limite livello numero massimo di richieste speriamo di trovarlo scrittura mano libera non l'ho trovato vado a cercare vediamo cerca scrivo SD installa un certificato sicurezza no installa app vediamo installa app sconosciuta installa certificati app installate mi sa che lo dovrò cercare con calma perché appunto c'è l'opzione forse non essendoci la scheda SD non ho la possibilità però dentro le opzioni sviluppatore di solito di solito c'è quella funzione lì allora andiamo a cercare di nuovo la chat che intanto ho rimpicciolito senza volere eccola qua Edo adesso vedo annebbiato vabbè quella cosa lì lo sappiamo l'ingrenaggio e tutto quanto Tiziano ciao Daniele a quando i prossimi video su Chromebook e sul mini PC allora il Chromebook lo vedremo già penso già in settimana o anche la settimana prossima dovremo fare vedere ancora alcuni video sul Chromebook ci manca da vederlo lavorare con Linux perché effettivamente è una cosa che fa e quindi andiamo a vederla il mini PC lo vedremo il 15 gennaio quando sarà disponibile per l'Italia vi mostrerò un mini PC molto bello funziona molto bene io lo sto già usando da tempo e quindi lì vedrete un mini PC uno dei tanti mini PC tra l'altro molto molto bello poi vediamo ciao Daniele a tutti i partecipanti di Euro buon anno grazie Teofalo altrettanto Michele ok sta parlando con altri e Michele dice anch'io ho l'icona file per gestire le cartelle Veronica come sta Miss Fulvia molto bene molto bene per Miss Fulvia ciao Daniele poi vediamo un po' Giuseppe ciao Daniele un saluto a tutti i maggiolini ciao Giuseppe Letizia dice ho acquistato il telefono uguale al tuo dopo aver visto il tuo video ottimo acquisto grazie per i consigli oh grande Letizia mi fa molto piacere io sono contento lo sto usando lo sono contento Francesca devo scappare ok ci rivedremo dopo in registrata Antonio la rubrica telefonica si può salvare sul PC in modo che la si possa stampare non serve perché la rubrica telefonica dobbiamo abituarci a salvarla sulla nuvola quando noi inseriamo un contatto dobbiamo dirgli che lo vogliamo sul nostro account Google in questo modo quando io vado in Google mi loggo con l'account in questione io adesso per me questo è quello da esperimento e quindi sono tranquillo perché non ci sono nomi vostri numeri di telefono di persone quindi non li mostro però c'è dentro qualche contatto se vado qui in contatti questi contatti sono gli stessi ecco intanto si vede giusto il mio numero di telefono non avrei voluto lo elimino questi sono i contatti che ci sono qua intanto si vede anche il nome di qualcun altro che non avrei voluto neanche quello ma come si fa a tirarlo via vabbè vado via da questa schermata così siamo a posto questi contatti sono quelli memorizzati nel telefonino o memorizzati sulla nuvola perché quando tu memorizzi un contatto nel telefonino va a finire sulla nuvola e così se rompi il telefono lo perdi o lo cambi non perdi tutti i tuoi numeri di telefono e se vuoi stamparlo puoi stampare dal computer apri il computer vai su Google abbiamo visto quindi Google Google ti loghi con l'account giusto vai in contatti e da lì poi dopo puoi stampare i tuoi contatti puoi selezionarli puoi fare ordine che dici caspita ma quanti telefoni doppi che ho eccetera eccetera da lì li gestisci e poi nel tuo telefono è tutto bello ordinato quindi i contatti si usano lì li potresti esportare in un file quindi dal telefonino posso andare e esportare i contatti vediamo se c'è un video in cui mostro come fare ma ne abbiamo parlato tante volte dei contatti esportare vediamo forse dovevo scrivere anche contatti scriviamo anche contatti se no c'è troppo ecco importare i contatti nel pc e quindi come li abbiamo esportati eccetera per cui abbiamo fatto tutto questo discorso qua dal telefonino tu li puoi esportare sotto forma di file aprire quel file con computer e fare tutto quello che vuoi non ha senso perché è più facile tenerli sulla nuvola e gestirli in quella maniera lì però si può fare si può fare da tantissimo tempo infatti il video è bello è bello datato già da sei anni fa l'abbiamo fatto anche altre volte se io scrivo contatti vediamo se scrivo contatti troveremo secondo me di più contatti vediamo un po' come dove salvare i contatti gestire i contatti i contatti come dove salvarli mettere i contatti sulla nuvola importare i contatti e che poi sono gli stessi di whatsapp quindi non perdiamo il contatto di emergenza un'altra cosa questo invece era l'iPhone backup dei contatti il salvataggio dei tuoi contatti i contatti sulla nuvola eccetera eccetera allora andiamo avanti vediamo cos'altro c'è scritto in chat e Letizia dice come si fa ad attivare i tre tasti in basso per potersi spostare indietro perché sul mio non ci sono quello è i gesti Letizia allora te lo cerchiamo perché ne abbiamo parlato recentemente gesti 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 allora navigazione con i gesti eccolo qua usare tablet smartphone senza le tre tasti di android eccetera quindi qui vedi la navigazione con i gesti quindi senza i pulsanti ma sempre in questo video vedi come andare ad attivare i tre tasti e poi anche personalizzarli vediamo se riesco a far vedere qualcosa al volo qua se vado in impostazioni scrivo gesti gesti dunque gesti gestisce autorizzazione gestione app di gestione navigazione tramite gesti premo qui e posso scegliere se usare la navigazione tramite gesti mettendo il pallino qui oppure tramite tasti e scegliere anche quali tasti avere quindi io adesso ho questi tasti qui perché sono comuni ai telefoni precedenti quindi questa disposizione di tasti mi è congeniale ma se non mi fosse congeniale ad esempio è un po' strano che il tasto indietro sia qui e non qui perché indietro questo perché deve essere qui che è più avanti il tasto che va indietro però io sono abituato così perché tutti i telefoni che ho avuto in precedenza avevano il tasto indietro in quella posizione lì e quindi lo tengo lì ma se io schiacciassi qua potrei cambiare la disposizione dei tasti e il tasto indietro è quello lì e quindi ci si può gestire su alcuni telefoni ci sono anche più tasti beh intanto vedi che io ne ho un quarto qui questo è quello di accessibilità che mi permette di ingrandire lo schermo in questo caso vediamo cos'altro mi dite Antonio che dice grazie Giovanni dice esiste gestione file del telefono oltre Google dipende alcuni telefoni ce l'hanno alcuni telefoni no nel mio caso c'era gestione file qua dentro archiviazione gestisce archiviazione come era gestione file eccolo qua se lo premo c'è ma non c'è su tutti i telefoni quindi su certi telefoni non c'è il gestore file per cui se vuoi puoi scaricarne un qualcosa quello di Google non ti piace però è quello che ha più senso quello di Google perché come sempre è fatto bene però archiviazione gestione file cerca 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 e via tieni presente che dando in mano il gestore file quindi mettendo un gestore file di chissà chi dai in mano i tuoi file le tue cartelle a chissà chi che non vuol dire che o chissà che cosa fanno con i miei file le mie cartelle perché queste applicazioni che tu scarichi sono controllate da Google però io se devo fare cose delicate preferisco dare in mano i miei dati a Google che li ha già perché il telefono è un Android il sistema operativo è di Google e quindi se loro volessero avrebbero già in mano i miei dati per cui di solito se devo condividere preferisco condividere con Google perché comunque è una cosa che avviene già in definitiva piuttosto che condividere verso l'esterno ah quelli lì sono bravi ah sono sicuri e sono lì c'è più privacy eccetera ok però allora i miei dati sono con Google più a quegli altri che c'è più privacy e quindi due soggetti diversi soggetti che non conosco che per sentito dire c'è più privacy e quindi ognuno fa le sue scelte ogni tanto saltano fuori quelle app lì che hanno ah questi qui la privacy lì è più sicura sì bellissimo poi a un certo punto diventano grandi vengono comprati e vengono comprati da gestori terzi e quindi di nuovo siamo a preoccuparci della privacy riprendiamo il piccolino sconosciuto e facciamo tutto questo giro qua allora Filippo dice ciao Daniele oggi è stata molto interessante la tua live soprattutto quando il computer ti ha mostrato in esplora le foto che hai scattato grazie Filippo una domanda ma non pubblichi più video su come si usa il tuo tablet 2G eccetera grazie Filippo ciao buona serata buon anno perché non ce l'ho più ho dovuto ho dovuto destinarlo a uno scopo superiore diciamo e quindi non ce l'ho più quindi finché adesso non ne arriva un altro potrebbe capitare allora dopo torneremo a trafficarci e sono comunque come avete visto tablet telefonini è proprio un doppione giusto il tablet perché è più grande eccetera ma sono proprio la stessa cosa Anna dice ciao Daniele collegando il telefono al pc posso usare le app del telefono sul pc no perché perché non si può e perché il Windows nelle app sono Android eccetera eccetera non si riesce a fare questa cosa lo fa bene questa cosa il Chromebook abbastanza bene perché anche lui ha dei limiti quindi no probabilmente ci saranno mille programmi compatibilità cioè non dico che non si possa fare ma non con la facilità che che fa un croc che che ha il Chromebook in fare in questo che ha il Chromebook per fare questa cosa quindi no e come ti consiglio di guardarlo questo video sul Chromebook allora andiamo a cercarlo chiudiamo un po' di cose 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 allora Chromebook eccoli qua perché dove installare le app come usare un Chromebook e tra le varie cose ti dice come installare le app sul Chromebook e quindi sul computer usi le app qui però mostro e l'unico lo strumento che lo fa al meglio è il Chromebook appunto perché è Android però non le fa tutte le app sul non le può far funzionare tutte perché perché certe app non vogliono funzionare sul computer ma vogliono che tu funzioni sul che vogliono essere usate sul telefonino sul computer si usano altre cose però se guardi questo video capisci bene il discorso Sergio mi dice ci vediamo l'anno prossimo perché prossima diretta sarà mercoledì prossimo Roberto dice ciao Daniele auguri buone feste anche a tutti i partecipanti allora vediamo cosa dice Giovanna dice ciao Daniele sei veramente bravo grazie e complimenti fanno sempre piacere volevo dire un'altra cosa ah sì domani ci sarà un video sugli smartwatch quindi ho un primo smartwatch da provare e lo sto già provando da una settimana che tra l'altro è ancora carico ancora vediamo al 50% da quasi una settimana che lo uso e domani vediamo come funziona che cosa possono fare gli smartwatch ce ne sono di vario tipo non tutti fanno le stesse cose e penso di avere la possibilità di mostrarvene un paio questo intanto è bello quindi domani lo vedremo e per cui tornate sul canale a dare un'occhiata anche a questo smartwatch fanno un sacco di cose gli smartwatch per cui sarà un video lungo per mostrarvi tutto e non riuscirò a dirvi tutto quello che fa e sono solo per gli sportivi no perché è uno strumento di salute quindi è uno strumento che può venire utile a tutti quanti bene ragazzi allora direi che ci siamo abbiamo visto tutto quindi oggi è mercoledì domani è venerdì insomma mancano no domani è giovedì e mancano i prossimi video quindi domani smartwatch e poi venerdì e sabato vedremo cosa cosa ci aspetta mi auguro che il video vi sia piaciuto qui sotto c'è il pollice in su per dire mi piace vediamo in quanti lo avete messo sì dai abbastanza a tutti grazie c'è il pulsante iscriviti per iscriverti al canale a noi fa piacere essere in tanti quindi se ancora non ti sei iscritto iscriviti e c'è il pulsante abbonati il ricordo che gli amici abbonati sono per noi sostenitori importanti quindi a loro va tutta la nostra gratitudine grazie infinite in più come abbonati avete la possibilità di vedere i video della serie speciale abbonati in questo momento i video abbonati sono vediamo quante sono 410 questa settimana cercheremo di aggiungerne un altro eccetera ne aggiungiamo quasi settimanalmente ormai comunque sono tantissimi e qui vedete che ho già provato il nuovo pc ho mostrato qualcosina in anteprima del mini senza dire che marca è nient'altro perché non si poteva e cosa volevo dire niente e quindi gli amici abbonati possono vedere anche i video della serie speciale riservate agli abbonati e gli amici abbonati ad Asmaggiolina fan tra le altre cose possono anche vedere i video in anteprima quindi alcuni video vengono pronti prima qualche ora o qualche giorno gli abbonati Asmaggiolina fan appena sono pronti possono già andare a vederlo vi ringrazio per la compagnia perché prima di tutto è una compagnia per il sostegno per tutti i mi piace e per essere sempre qui con me il mercoledì e vi do appuntamento in diretta mercoledì prossimo sarà già l'anno prossimo sarà il 3 gennaio ma vi aspetto sul canale in questi giorni per vedere i video che nel frattempo usciranno ci vediamo al prossimo video quindi io adesso vado qui e premo i pulsanti giusti per salutarvi ciao ragazzi buona serata ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.